Il nostro impegno è presente in molte aree, in Iraq, in Afghanistan, in Libano, nei Balcani. Adesso, nell'ambito di una solidarietà che c'è nell'alleanza, avremo anche una compagnia, quindi un numero ridotto non è nostra responsabilità, saremo sotto un comando canadese, ma avremo anche una compagnia che fa parte di quelle misure di rassicurazione che i paesi dell'Est hanno richiesto e l'Italia, quindi solidale sul fronte est quando ce n'è bisogno, chiede sempre con attenzione solidarietà sul fronte sud. Finalmente la Nato ha deciso, anche per quello che riguarda gli impegni diretti nelle missioni, di avere una visione a 360 gradi, quindi una missione di sicurezza navale presente nel Mediterraneo sarà una missione Nato che risponde a delle esigenze che ha posto l'Italia.